e andiamo con un'altra missione per la sequenza 2 ancora yusuf amir la normale lama uncinata ottomana ma io su famiglia da quello di gta scusate yusuf tazim sorry gioco troppo una sfida più impegnativa sta bene andiamo perché dovrebbe spaventarmi panorama da galata rampica di sua torre in meno di 60 secondi io capirai via ti stai divertendo ok esatto lascia che sia la lama uncinata a lavorare ma va tra l'altro ho già sincronizzato il punto l'osservazione quindi abbastanza easy molto bene cerca di fare del tuo meglio dai dai ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo fatto c'è lo scrigno eh benvenuto a costantini a ezio il crocevia del mondo molti uomini hanno governato questa città ma non l'hanno mai soggiogata lei li ha sempre respinti sembra un bel posto da chiamare casa lo è vediamo che scende prima beh beh tu sei abbastanza easy balzo della fede è già fritto il ricordo sono colpito yusuf ai confratelli di roma piacerebbe molto onore al merito come si dice yusuf vieni presto un attacco su due fronti galata e gran bazar ogni giorno brutte notizie hai voglia di tirare un po' di spada faccio quello che devo ben detto benissimo tattica avanzata assassina da una fune tesa ok ho capito anche qua spiegata a merda ma l'ho capita una volta solo sente parole quando è stanco di correre un assassino deve prendere il volo guarda qua non c'è nessuno da assassinare per ora ok prima ci farà sicuramente prendere pratica poi dopo passeremo a cose più formali cheat un esploratore templare è un altro lì sta a vedere mi hai tolto il bersaglio vaffanculo all'assassino aiuto non ha visto il braccio boom obiettivo secondario completato godo per fortuna non c'è quel filtro che va a sfumare in alto come c'era in brotherhood le famose torri una volta erano dei borgi adesso sono di questi coglionazzi qui ok vai al covo degli assassini perfetto perfetto zitto donna com'è comoda sta cosa sapete che l'avevo troppo sottovalutata invece tipo è utilissima due metri in alto ah qua ok mentore è un onore yusuf è con te un attacco in città ha richiesto la sua presenza qual è la nostra situazione abbiamo respinto la vanguardia ma invieranno altre truppe i vostri uomini sono pronti a un altro scontro adesso sì ok questa la facciamo la prossima volta e vi ho colto di sorpresa eh grazie